ciao a tutti ragazzi bentornati su fotografia costruttiva oggi in questo video andiamo a scoprire una novità lego che riguarda molto molto da vicino noi fotografi costruttivi di cosa si tratta ve lo dico dopo la sigla eccoci qua ragazzi andiamo subito a vedere di che cosa si tratta anche se ormai l'avrete capito si tratta della nuova serie di minifigure lego collezionabili dedicate al mondo DC comics e guardate un po da da abbiamo qua il box intero che adesso andiamo ad aprire insieme scopriamo che cosa c'è al suo interno e se riusciremo a trovare le 16 minifigure di questa collezione ebbene sì perché questa volta ci sono 16 minifigure collezionabili vediamo già la scatola già il box è molto fumettoso adesso ve lo faccio vedere da vicino ma è veramente veramente bello bello colorato fumetto dai poche parole andiamo a giocare ciao 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 eccoci qua ragazzi abbiamo finito di aprire e costruire le minifigure come avete visto sono spettacolari che cosa abbiamo trovato in questo box ve lo faccio vedere subito allora in questo box e lo ci tengo a precisarlo non so negli altri in questo box io ho trovato la bellezza di tre serie complete avete capito bene tre serie complete più qualche doppione che adesso vi vado a dire abbiamo 4 metamorfo 5 joker 4 star girl 5 flash 4 lanterne verdi 5 4 aquaman e 4 aquaman 4 Superman 4 Wonder woman e 4 cita in questo box lo dico di nuovo bellissimo mi piacciono un sacco tanti particolari mi piacciono mi piace un sacco il fumetto di batmito che per chi non lo sapesse con numero 27 è proprio il numero in cui compare per la prima volta batman sul giornalino sul fumetto sono piccole chicche ma che per gli appassionati di questo genere saranno grandi chicche e poi questo che cos'è non il pezzo grigio ma questo vediamo se lo mette a fuoco e sì sì l'avevi preso dai eccolo lì il nuovo pezzo speciale che avete visto in tutte le minifigure è presente in ogni minifigure per fare l'effetto che stanno volando praticamente l'effetto del volo sono presenti due pezzi speciali in ogni minifigure quindi un rapido calcolo se uno si fa la collezione completa minimo 16 per 2 32 32 pezzi speciali io ho finito ragazzi a me non resta che invitarvi a seguire fotografia costruttiva un po dappertutto qui sul canale youtube iscrivetevi iscrivetevi anche al gruppo facebook e alla pagina facebook e soprattutto www.fotografiacostruttiva.com sempre un sito in aggiornamento sempre un sacco di fotografie a tema lego nuove io mi sono divertito un sacco a giocare con questa nuova serie di lego minifigure spero anche voi a guardare e vi aspetto al prossimo video ciao